Buongiorno a tutti. Dopo le dirette sulla pagina Facebook e sul canale YouTube della Tecnica della Scuola per illustrare i bandi dei concorsi pubblicati in gazzetta ufficiale e per rispondere alle domande più frequenti formulate dai lettori, ci soffermiamo oggi sempre a proposito di concorsi su un punto abbastanza controverso su cui abbiamo ricevuto diverse richieste di chiarimenti. Mi riferisco in particolare al dubbio che è sorto circa quante procedure concorsuali si può partecipare. Partiamo da un punto, i bandi di concorso non prevedono delle preclusioni per una partecipazione alle diverse procedure, quindi in teoria avendone i requisiti si potrà partecipare sia alla procedura straordinaria che a quella ordinaria, ma veniamo alle singole procedure. Per quanto riguarda il concorso straordinario finalizzato all'immissione ruolo nella scuola secondaria, il bando prevede la possibilità di presentare una sola domanda in una sola regione appena di esclusione e con la stessa domanda indicare più procedure alle quali si vuole partecipare, ovvero con una sola domanda si potrà partecipare per la scuola primaria di primo grado sia per una sola classe di concorso che per i posti di sostegno e per la scuola secondaria di secondo grado per una sola classe di concorso e per i posti di sostegno. Quindi nel concorso straordinario di scuola secondaria si potrà partecipare con una sola domanda a quattro procedure. Per la scuola primaria di primo grado una classe di concorso più sostegno, per la scuola secondaria di secondo grado una classe di concorso più sostegno. La procedura straordinaria finalizzata al conseguimento dell'abilitazione ha delle regole più restrittive. Infatti il bando prevede anche qui la possibilità di presentare domande in una sola regione appena di esclusione per la partecipazione però ad una sola classe di concorso nella quale si vuole conseguire l'abilitazione. Quindi abbiamo visto che qui è molto più restrittivo il bando. Passiamo adesso ai concorsi ordinari. Il bando del concorso ordinario per la scuola secondaria prevede anch'esso la possibilità di presentare la domanda per una sola regione e nell'ambito di questa singola domanda si può esprimere la preferenza per una classe di concorso e per i posti di sostegno nell'ambito della scuola secondaria di primo grado e una sola classe di concorso è il titolo di sostegno e i posti di sostegno per la scuola secondaria di secondo grado. Quindi anche qui sostanzialmente si potrà partecipare a quattro procedure per la scuola secondaria di primo grado classe di concorso e sostegno, scuola secondaria di secondo grado classe di concorso e sostegno. Quanto infine al bando per il concorso ordinario di scuola dell'infanzia e primaria qui si potrà sempre partecipare in una sola regione e con una sola domanda si potrà chiedere di partecipare sia per l'infanzia che per la primaria sia per i posti comuni che di sostegno. Quindi con una sola domanda si potrà indicare di partecipare per la scuola dell'infanzia, per il posto comune e per il posto di sostegno, per la scuola primaria, per il posto di comune e per il posto di sostegno. Arrivederci.